Ciao a tutti, questo oggetto che vedete qua si chiama Upshooper. Cioè, viene utilizzato per saltare e divertirsi, però non è così facile usarlo, utilizzarlo. Abbiamo un cerchio che è collegato tramite un filo di gomma alla girandola, dove dentro c'è una pallina che se tu scuoti la girandola, che gira, la pallina luccica si accende. Allora, funziona così. Metti un piede destro-sinistro, in questo caso io sono più comoda con il destro, dentro il cerchio, e poi metti il piede che non è girandola a terra, e poi metti il piede che non è infilato nel cerchio, sopra il filo di gomma. Non è facile. Devi cercare di dargli tantissima spinta, per poi farlo girare e farlo partire. Quando gira, questo piede deve saltare, ovviamente, perché se no si ferma subito. Così. Ok, spero che abriate casito. Ciao.